... Servivano soli tre punti e nel finale l'Orvietana li ha ciuffa. Una vittoria tutta firma a Riccardo Santi, centroavanti partito dalla panchina, che si è guadagnato in rigore, lo ha realizzato a cinque dalla fine e ha completato l'opera con la doppietta al novantesimo. Proprio lui che fino ad oggi aveva poco inciso sui tabellini dei biancorossi ha invece risolto una gara importantissima che nessuna delle due squadre stava riuscendo a fare propria. Orvietana senza infortunati Vignati e Caravaggi si opta per l'esordio da titolare di Ciavaglia, confermato Ricci centrale. Davanti si preferisce partire con Stampeta e Marsili, Cenaglia che al netto dello squalificato Papini fa un solo cambio rispetto all'ultima gara pareggiata in casa contro il Grosseto. Dopo oltre 15 minuti senza emozioni, ecco al diciottesimo una doppia occasione per il Cenaglia. Prima Simonini si ritrova una palla ghiotta da spingere in rete dopo il cross della sinistra di Malara, ma calcia debole e centrale, l'azione continua. Stavolta la palla arriva in area dal lato opposto, Congiu interviene e devia il pallone sul palo. Pericolo che non sveglia l'orvietana che trova un sussulto solo un quarto d'ora più tardi. Ah, è il trentesimo quando c'è una progressione con Marsili che entra in area, mette al centro verso Proia, c'è un intervento di un difensore che rischia, l'autorete para bene Borchini senza trattenere, c'è anche un tocco, sembra con un braccio di Rossi in caduta che genera molte proteste, l'arbitro fa proseguire, poi a fine azione ci prova Lorenzini dalla distanza. Poche emozioni per il resto, bisogna attendere il trentacinquesimo per un'incursione di Proia sulla sinistra, con Borchini ancora che interviene senza trattenere l'azione, poi sfuma con l'ennesimo tiro dalla distanza, lontano dai pari. Si va così al secondo tempo, manovre continuano ad essere sterile da entrambe le parti, si rivede l'orvietana all'undicesimo con Greco che prova la conclusione dalla distanza, ma senza esiti. Dieci minuti più tardi, sempre lui, Greco va a battere una punizione, si apre una mischia in area al termine della quale Marzili prova a girare, ma la palla termina a lato. A questo punto arriva addirittura un cambio a quattro per l'orvietana, entrano Gomez, Mafoulou, Santi e Siciliano per Ciavaglia, Orchi, Marzili e Stampedri, passando così al 3-5-2. È la mezz'ora, quando c'è un'azione concitata, alla fine prova Mafoulou di potenza, ma viene ribattuto da un difensore, Santi manca la rovesciata e l'orvietana trova solo calcio d'angolo. Risponde il cenaglia al 31esimo con Becucci che crea scompiglio al limite dell'aria, finisce a terra, l'azione prosegue, ma i tiri negli specchi delle porte, ancora nemmeno l'ombra. Ed ecco dunque il finale, tutto a marca, Riccardo Santi al 40esimo punizione di Proia, palla in aria, c'è una ribattuta, Fabri colpisce di testa, interviene il portiere su Santi e è un intervento che per l'arbitro vale il calcio di rigore. Ci sono proteste, Santi però va dal dischetto, è il suo terzo calcio di rigore stagionale e trasforma anche questo. E porta l'orvietana in vantaggio quando siamo al 40esimo. Per le proteste successive a questo calcio di rigore viene espulso Ferretti che era entrato 5 minuti prima nel Cenaglia al posto di Malara e nel finale Santi completa l'opera proprio allo scoccare del novantesimo quando entrando in aria da destra dopo una triangolazione trova il diagonale giusto per mettere al sicuro il risultato, il suo primo gol su azione. Sono tre punti questi fondamentali, magari non un'orvietana bellissima almeno fino all'ottantesimo, ma tre punti dovevano essere e in qualche modo sono arrivati. Allora, servivano i tre punti e i tre punti in qualche modo sono arrivati. C'è stato un primo tempo un po' deludente, forse perché non ci aspettavamo in Cenaglia col 5-3-2, la partita è ovviamente stata preparata un po' diversamente non siamo riusciti a sbrogliarci da questa situazione e poi alla fine è stata una vittoria da tutta marca Riccardo Santi che ha procurato il rigore, lo ha segnato e ha fatto la doppietta. Sì, parto dalla fine che è stato per noi importante che Riccardo sia entrato con la testa giusta e ha trascinato la squadra alla vittoria però l'approccio alla gara è stato difficile perché loro comunque si erano chiusi molto bene dietro e non era facile trovare gli spazi, siamo stati leggermente bassi forse dovevamo prendere leggermente più alti, però sono partite difficili perché loro giocavano probabilmente una delle ultime chance per attaccarsi al treno della salvezza e quindi ce l'hanno messa tutta, come ce l'hanno messa, non ci scordiamo domenica a Livorno, il Livorno che non lo scopro io, ha pareggiato a tempo scaduto contro di loro Il Grosseto, scusate, quindi è una squadra che ce l'hanno messa tutta è stata una partita sporca ma lo sapevamo, i ragazzi lo sapevano benissimo il campionato sarà purtroppo così fino alla fine perché questo è il campionato equilibrato dalla testa ai piedi della classifica, vedete i risultati anche di oggi però abbiamo accorciato, comunque siamo in serie positiva da tre partite il lato positivo direi che è questo, i ragazzi si sono fatti trovare i pronti a chi non è partito titolare dal principio e li ringraziamo tutti perché stanno facendo bene stanno seguendo il lavoro che facciamo settimanalmente quindi si stanno vedendo i risultati, però chiaramente non abbiamo fatto nulla C'è questa situazione in cui ti risolve il risultato il giocatore che magari era stato in un primo momento messo un po' da parte perché insomma lo sappiamo, Riccardo magari non è che aveva inciso così tanto nei tabellini dell'Orvietana nelle settimane scorse però oggi ha messo una pietra miliare forse per quello che è il percorso dell'Orvietana e al di là del problema tattico che c'è stato all'inizio ti aspettavi qualcosa di più da qualcuno, hai dovuto fare qualche cambio che magari è stato un po' impopolare? Il calcio come sapete è un gioco di squadra, io non parlo mai dei singoli parlo della squadra che ho detto prima, ha avuto delle mancanze avevo preparato la partita in certa maniera siamo stati leggermente sorpresi da loro 3-5-2 però l'avevamo paventata come situazione probabile pure quindi abbiamo subito cambiato, abbiamo visto dalla formazione che c'era qualcosa di cambiato quindi siamo subito intervenuti e sono contento di Santi è uno dei nostri attaccanti, si impegna come si stanno impegnando anche gli altri fanno comodi i gol di tutti, non guardo Santi, non guardo chi fa gol noi siamo una squadra e è importante vincere perché parlare dei singoli poi non ha senso tutti si stanno impegnando quindi di questo noi siamo soddisfatti più che altro Anche perché là dietro le quattro che erano in zona play-out hanno vinto tutte e quattro Ci sta, ci sta e noi dobbiamo continuare, ripeto, non dobbiamo mollare siamo partiti con un handicap importante nelle partite in cui siamo subentrati però la squadra oggettivamente comunque ha dimostrato rispetto a un mese fa perché questi sono due mesi ormai che siamo qua quindi ha dimostrato che ci crede quindi poi il calcio, sapete, vive sugli episodi un paio di situazioni, anche un rigore dubbio, forse c'era per noi più che dubbio, quindi gli episodi non ci favoriscono anche nelle partite in cui abbiamo perso comunque ci sono stati episodi comunque sfavorevoli oggi per fortuna, mi sembra che nella stessa stazione ci fossero stati un paio di rigori farlo di mano poi su Santi, credo, così a occhio dalla panchina uno è poco lucido, magari non vede bene comunque ti dico che pur non facendo una grande partita ma le partite queste non puoi fare grande partite ce ne saranno altre così che vivranno sugli episodi e vivranno sulle situazioni che dobbiamo portare a nostro favore Settimana prossima si va a Trestina lì forse sorprese tattiche, non ce l'aspettiamo Non lo so, vediamo, noi pensiamo adesso ci godiamo fino a domani la vittoria la vittoria importante che ci tiene a galla in maniera pesante La buona sapienza di andare Sì, appunto, non sono niente, quindi dobbiamo avere ancora più entusiasmo dobbiamo credere nel lavoro che si fa settimanale e andare avanti così Allora, eravate riusciti a imbrigliarla l'Orvietana che si aspettava magari un cenaglia disposto in campo diversamente magari simile a come eravate disposti nelle partite precedenti questo 3-5-2 o 5-3-2, che dir si voglia, ha mandato un po' in tilt ce l'ha detto anche il secondo dell'Orvietana i progetti e tutto quello che avevano preparato in settimana poi però nel finale c'è stata questa situazione come ce la racconta lei? Ma niente, sapevamo che era una partita difficile tant'è vero che sicuramente non è stata una bella partita per lo spettacolo però sapevamo che sarebbe nata una partita del genere certo, noi abbiamo cambiato sistema di gioco anche se io penso che alla fine sono dei numeri i numeri non contano niente, contano i principi e abbiamo provato ovviamente a giocare, a fare la partita perché sapevamo che questa insomma, man mano che passano le giornate sono sempre meno le possibilità di salvarci o comunque di andare ai play out quindi siamo venuti qua sapendo che i tre punti ci servivano come il pane ed è nato ovviamente, questo voleva anche per l'Orvietana è nata una partita brutta Cosa si può dire? Che al primo tempo sì, siamo stati molto più compatti abbiamo tenuto bene il campo abbiamo chiuso bene siamo anche ripartiti qualche volta anche bene c'è stata anche quella all'inizio al primo tempo c'è stata quella palla che ha colpito il palo insomma, sicuramente gli episodi non ci aiutano non voglio parlare dell'episodio finale di tutto quello che abbiamo visto c'era, non c'era non mi interessano a me queste cose qua recriminare eventualmente su un rigore o su altro forse il nostro errore è stato quello di abbassarci un po' troppo e alla fine l'abbiamo anche subito ecco, ci aspettavamo qualcosa di più magari abbiamo sbagliato qualche uscita abbiamo sbagliato forse anche qualche modo anche di difenderci perché alla fine è nato questo gol e c'era, non c'era non sta a me dirlo non mi interessa insomma sicuramente dispiace perché mancavano pochi minuti alla fine si riusciva a portare a casa avevamo anche cambiato cercando di cambiare il centrocampo che qualcuno era stanco anche qualcuno in attacco magari con la speranza che in avanti succedesse qualcosa di più perché a noi alla fine un punto ci serviva ben poco da essere uno dei tre punti invece andiamo a casa con 0 punti di partite ne mancano tante è vero che la classifica adesso è brutta però se magari non guardate la classifica e giocate partita per partita l'avete dimostrato anche un po' anche oggi ma anche contro il Grossetto si, si, si dispiace perché anche contro il Grossetto mancavano veramente 5 secondi da orologio ma veramente 5 non per dire proprio 5 ne mancavano quindi dispiace ecco perché ho detto gli episodi insomma non ci aiutano siamo stati un po' sfortunati in questo però è anche vero che la fortuna aiuta gli audaci quindi bisogna andare a cercare la fortuna io sicuramente non piango anzi ho detto ai ragazzi ora che non l'ho di compromesso mancano ancora se non mi sbaglio 12 giornate se non erro in 12 giornate si possono fare tanti punti non si sa mai io sicuramente ed è quello che cercherò sicuramente insieme al mister a tutti noi cercheremo di far capire ai ragazzi che bisogna lottare fino all'ultimo e fino a quando la classifica la matematica non ci condannerà bisogna per forza cercare di fare questo a questo punto quello che chiamerei un miracolo sportivo considerato anche che il Cenaglia l'ha già fatto salendo in serie D con un paese come questo piccolo quindi il miracolo però si può fare io ci credo spero che i ragazzi non si abbattano sono molto dispiaciuti dispiace perché proprio così alla fine episodi un po' contestati rimangono sempre un po' delusi questi ragazzi qui però ecco testa bassa ora riposiamo torniamo a casa domani domani ci riposiamo e martedì riprenderemo che avremo il Tao in casa sarà una partita ovviamente difficilissima però cercheremo nel nostro campo di fare qualcosa visto che poi tra virgolette ci ha portato anche un po' più di fortuna allora ovviamente i tre punti sono come ossigeno puro perché è vero che hanno vinto tutte là dietro però adesso la zona salvezza diretta è a soli tre punti primo tempo è stata è stata dura abbiamo visto che insomma la squadra è affaticata poi c'è stato questi quattro cambi di cui anche tu sei stato uno dei protagonisti siete ritornati al vecchio per modo di dire 3-5-2 e avete risolto nel finale la partita ma quanto è difficile in questa situazione dover partire dalla panchina dover aspettare cioè dall'esterno può sembrare che questa situazione perché qua ogni settimana cambiano un po' le gerarchie era successo anche in precedenza però la salvezza si ottiene anche remando tutti dalla stessa parte e ci devi garantire che questo accada al di là del magari essere un pochino insoddisfatti se qualche domenica qualcuno va in panchina sicuramente come hai detto tu non è facile subentrare la partita in corso soprattutto per noi che siamo difensori però credo che oggi abbiamo dato una risposta importante perché chi non è partito dall'inizio ha dato una grande prova e siamo riusciti a riacciuffare questa partita perché era importante e l'unica cosa da fare era vincere e oggi prendiamo di buono il risultato prendiamo di buono che siamo a tre punti dalla zona della salvezza però c'è ancora tanto da lavorare ci sono ancora tante partite c'è ancora tanto da lavorare perché ci sono tre squadre avanti a noi e come tutti sanno non meritiamo questa classifica ma ad oggi questa è quindi noi ne prendiamo atto e bisogna lavorare 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 abbiamo detto a inizio anno quando magari le prospettive erano anche un po' diverse la rosa è tanto numerosa ci deve essere concorrenza interna adesso ci deve essere unità di intenti insomma perché magari quell'essere numerosi deve diventare un punto di forza non deve diventare un punto di debolezza e mi pare come hai detto tu che nell'ultimo quarto di partita si è visto sì sì assolutamente ma c'è già da un bel po' questa unità di intenti che dici e ovviamente la concorrenza c'è dall'inizio e ci sarà fino alla fine perché siamo un gruppo numeroso però questo non vuol dire che poi chi parte dall'inizio e chi parte a gara in corso non possa risolvere la partita o non possa dare una mano a chi gioca dall'inizio bisogna accettare tutte le scelte dell'allenatore e quando si viene chiamato in causa si deve dare il meglio che si può dare anche perché è il terzo risultato utile di fila la seconda vittoria interna è la quarta partita di fila che si segna dopo un periodo che non si riusciva mai a fare gol quindi insomma l'inversione di tendenza c'è stata insomma sì ci sono state quelle tre partite fra Grosseto Livorno e Tau dove non non abbiamo fatto gol però secondo me sono sono state quelle tre partite che hanno iniziato un nuovo cammino per noi perché potevamo fare potevamo portare punti a casa in quelle tre partite non è stato fatto però anche come dice il mister il lavoro si vede alla lunga e quindi i risultati come hai detto tu stanno arrivando nelle ultime quattro ma come ho detto già in precedenza è ancora tanta la strada a fare e sarà dura fino alla fine all'orizzonte c'è il derby col Trestina altra squadra che anche oggi è andata a pareggiare al Pian Castagnaio era rimasta in dieci ma è riuscita a pareggiarla all'andata si ottene una vittoria importante è un campo difficile e tradizionalmente ostico per l'Orvietana c'è da togliere questa brutta tradizione che è Trestina e l'Orvietana praticamente a parte in Coppa ma in campionato mi ricordo tra serie di eccellenza non mi ricordo mai gioia insomma sì sì anche l'anno scorso abbiamo sofferto in quel campo lì e soprattutto loro vorranno vendetta siccome all'andata abbiamo vinto e noi sappiamo che le squadre Umbre tra le squadre Umbre non corre buon sangue come magari in quelle Toscali quindi sarà una battaglia dura loro sono quasi matematicamente salvi però noi andiamo lì facciamo la nostra partita e cerchiamo di portare il più punti possibile